Buongiorno ragazzi, in questo capitolo noi cercheremo di chiarirci un po' l'idea su come strutturare il nostro libro con un semplice esercizio, ovvero scaricatevi il file che trovate nella descrizione di questo capitolo e vedrete che è composto di tre sezioni, ovvero l'argomento, il titolo e l'introduzione. Queste sono le tre aree che devono essere chiarite sin da subito, almeno che io chiarisco da subito per avere un'idea chiara di cosa tratterà il libro e di come verrà strutturato. Allora, l'argomento ovviamente bisogna decidere di cosa dobbiamo parlare perché sennò non abbiamo mai l'idea chiara, quindi questa è una cosa assolutamente fondamentale. Il libro che scriveremo in questo corso verrà intitolato ovviamente come scrivere e pubblicare un libro su Amazon, perché? Perché è esattamente quello che stiamo facendo e documentare qualcosa mentre lo si sta facendo è veramente il modo più semplice per avere l'idea sempre chiara, per avere sempre nuovi spunti. Quindi questo è il libro che scriveremo perché appunto lo scriveremo man mano che andremo avanti con il nostro percorso. Nel vostro caso troverete molte righe sul file che avete appena stampato, perché? Perché i titoli devono essere pensati, cambiati, modificati, quindi avere una sola riga secondo me era troppo limitante. Bisogna aprire la mente, buttare giù come fare questo, perché fare questo. Ovviamente il titolo deve essere pensato su come una persona cercherebbe quell'argomento. Se parliamo di uncinetto è come fare uncinetto o punto croce, come fare uncinetto senza l'uncinetto, cose del genere. Come, perché, domande che le persone fanno. Perché su Amazon, a meno che voi non siate J.K. Rowling, le persone vi troveranno cercando il titolo del vostro libro, non il vostro nome. Di conseguenza il vostro titolo dovrà rispondere a un bisogno. Come, perché, dove, chi, quando e queste cose qua. Quindi dovete iniziare a ragionare in questi termini. Poi ovviamente il libro voi potreste anche scriverlo solo per soddisfazione personale, per dire ok sono io, ho un libro pubblicato su Amazon e può non interessarvi che la gente vi trovi. In questo caso mettete il titolo che più vi sembra opportuno, fermo restando che potete cambiarlo lungo la strada, quindi non c'è nessun problema. Anche dopo aver pubblicato il libro si può cambiare, quindi è meglio sceglierlo. Io l'ho sempre scelto all'inizio per evitare di tornare indietro, di ripensarci sempre, decidevo quello. E poi forse lo riarrangiavo, invertendo i termini, andando a studiarmi un po' com'era la concorrenza. Però in linea di massima è sempre rimasto quello. Quindi l'argomento, poi il titolo e poi l'introduzione, ragazzi. L'introduzione è assolutamente fondamentale, tanto quanto il titolo, perché il titolo serve per farvi trovare. Quando uno vede il vostro titolo e anche la copertina, che dopo andiamo a vedere come fare, ma alla fine andrà nel dettaglio del vostro libro. E cosa succede nel dettaglio del vostro libro? Succede che si può leggere un estratto. E l'estratto del libro, ragazzi, è la cosa fondamentale, perché se il titolo serve per farvi trovare, l'estratto è quella cosa che una persona può leggere gratuitamente per decidere se acquistare o no il vostro libro. Quindi è la vostra lettera di presentazione, in sostanza. Non ci devono essere errori, non deve essere difficile da leggere, non deve essere noioso, ok? Quella cosa più importante deve essere di facile lettura, anche se non ha dei contenuti profondi. Non importa, tanto una persona sa che quella è la prima pagina, non può trovare tutte le risposte con la prima pagina. Però se già vede che è scritta bene la legge in maniera che ne vuole ancora, l'acquisto è già scontato. Quindi, ragazzi, bisogna veramente essere sul pezzo, essere attenti a scrivere quell'introduzione a lei, da per quello che l'altra metà del foglio tratterà dell'introduzione. Perché deve trasmettere emozioni, ragazzi. Non deve essere noiosa, non deve essere una serie di ragionamenti. Deve solamente trasmettere emozione. Perché una volta che una persona legge, percepisce la vostra emozione, si sente coinvolta e è già a metà strada del vostro percorso. Quindi questo deve essere il ragionamento. Se scrivendolo, non vi viene un po' di batticuore, di brivido sulla schiena o di che probabilmente state sbagliando qualcosa. Vi lascio anche tra le risorse le due introduzioni che ho fatto per due dei miei libri, Come spiegare Bitcoin ai genitori e Da dipendente e imprenditore, le 5 più 1 regole fondamentali. Come vedete, leggendole già ci si sente, ci vuole, si vuole leggere di più, si sente interessati, anche se non dicono niente effettivamente di quello che è il titolo. Ma non importa, perché appunto una persona nella prima pagina non vuole saper già. Vuole solo vedere se ha senso quel libro per lui oppure no. Quindi ragazzi, scaricate la risorsa, scaricate le due introduzioni se volete avere qualche spunto aggiuntivo e mettetevi all'opera. Ci vediamo nel capitolo 2.